No, no, la febbre no, è venuta a qualcun altro la febbre Ti fai sentire dentro quanto tempo è ancora Rimbalzi tra i miei sensi quanto tempo è ancora Scusa un attimo, potresti reggermi per favore il microfono? Scusami, è ancora Ok, ci siamo, tette gonfiabili, via, si parte, vai ragazzi, andiamo Ragazzi Scusate Piacere, che tiranno Ragazzi, non esagerare Mi fate rivestire per favore, che è meglio E' un altro personaggio, Davide Simone Vici, si? Se n'è andato, questa è anche la vita di Vip Di quanti mesi siamo? Quattro, cinque o sei? Sei mesi, sei mesi Tra poco è scena Maschio o femmina? Maschio Ma siete peggio di prezzo, ma cosa ci fate voi tu qua? Cosa ci fate? Cosa ci fate? Piaccio e ci hanno convocato Ma perché voi siete dei Vip Come parla? Very important peerless Si, eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua Ma se non sapete neanche cosa vuol dire giocare a pallone Ma la cosa grave La cosa grave, che forse loro non sanno Diciamolo qua piano piano E noi non sappiamo giocare a pallone Li faremo perdere oggi Parla bene per te Ma quanto tempo Ancora Ti fai sentire E tu e ancora Rimbalzi tra i miei stessi Quanto tempo E ancora Ti metti sempre al centro Quanto tempo E ancora E ancora con l'amore E ancora con l'amore Cosa, cosa, l'iterio, scusa, non abbiamo sentito L'iterio, scusaci L'iterio, ah, no, non vuole parlare Eh, sono in esclusiva io per andare a Sicilia It's go, it's go, it's go Tu parli solo spagnolo? Sono spagnolo Anche io sono una vera spagnola Si Eh, di Madrid De Madrid, no, io sono argentino, no, è spagnolo Argentino Io amo l'Argentina Ti siente che sono argentina? No Che fidanzato Sai che sei carino? Si, sono fidanzato Una velina Uh, la, la, uh, la, la Do you know, velina? Cosa fa la tua fidanzata? No, in Argentina, eso Bella No, no Niente, studia Studia Tu andrai a trovare in Argentina la tua fidanzata? Lunedì Lunedì parti Parti E quando rientri qua a Catania? 7 luglio Hai visto che io parlo bene? Tu che comprendi la mia lingua? Entiendo Entiendo Comprendi, entiendo Tantissimi auguri In bocca al lupo Forza Catania Bravo Un evento importante Quindi Si parla di calcio Si parla sì Vabbè di sport sicuramente Però di tanto in tanto Si parla anche di beneficenza Di solidarietà Sicuramente Bravo Questa è la morale Quindi noi siamo contenti di stare qui Ci siamo Poi anche dormire volendo Ci siamo affressati con molta Con molta gioia Ecco Silvestri Ciao Ma è tuo figlio? Si Guarda che carino Complimenti Grazie Un regalo bellissimo Come si chiama? Thomas Thomas E allora vacanza con Thomas Quest'estate sicuramente? Senza dubbio Anche perché Se no mi tocca portarlo in campo Perché già vuole Già gli piace giocare E lui? Angilezzo Dito Angilezzo Il nostro Angilezzo Come stai? Male Perché? Perché sono consapevole Di dovermi esporre Una bruttissima figura No Far la tua magra figura Non ti preoccupare E tra tanti video Abbiamo anche Maurizio Ciancio Abbiamo venduto la partita Sto dando le chiave alla macchina E lui in cambio Mi pulisce le scarpe Hai visto che fa fatto? Gli avversari Hai visto che fa fatto? Infatti Chi vincerà? Chi vincerà? Ci adeguiamo Chi vincerà? Maurizio Ma noi Ma noi C'è dubbio Perché il silenzio stampa Corona? Scherzi 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 Non è vero? No Come va? Come va? Bene Bene Ripresi dopo questa bella stagione? Abbiamo Diciamo Vesteggiato Adesso siamo qua per questo evento Extraordinario Perché penso che Le partite più importanti Sono queste Sennò quella che facciamo la domenica No Che sei l'aria Chi sei l'aria Chi sei l'aria Chi sei l'antipota Liare Come sei Aspetta Ma hai fatto l'aria? Sempre la stessa Sempre la stessa Sono l'antipota Ne è cambiato assolutamente niente Favolo Aspetta Ne approfitto Chi è te faciste i mini No I mini Già tutte naturali Di quacciocaio Sono naturalissime Si vede Per il terzo anno consecutivo Il memoriale in onore di Valentina Lei è la mamma Nonché organizzatrice In pochissimo tempo È riuscita a organizzare Tutta questa bella manifestazione Grazie di vero cuore Signora Sì grazie Soprattutto a chi ha intervenuto All'aiuto Che in poco tempo Siamo riusciti Perché purtroppo Noi sappiamo benissimo Che il Catania Solo il 27 Ci siamo riusciti E quindi Diciamo in 12 ore Siamo riusciti Ad organizzare La terza Memorial Valentina La terza memoria Il Catania Il Catania Che è andato in Serie A Ma penso che questo È il vero gollo Il vero gollo della Serie A È un gollo Alla leucemia E spero che le tribune Si riempiono E riusciamo A raccogliere fondi Per questi bambini Che effettivamente Ce ne vogliono Beh io già È da due anni Che seguo Laura Sto con lei Quindi sono vicino Alla sua associazione So quello che fa E quanto si sforza Per questi ragazzi Quindi per me È un onore Un piacere essere qui Ho visto che la gente Ha risposto Peccato il tempo Però Senti facci la promessa Però Siccome io starò in difesa Io gioco difesa D'altra parte Ah vabbè Allora Ciao Andiamo da Tino Andiamo da Tino Chi è Tino? Tino vieni qua Venite venite Ah ci vediamo da Tino No Tino è qua Tino è l'elefantino Ciao elefantino È l'elefantino Sembra da di Simone Vinci Sembra Questa cosa che lei parla Con gli elefanti È grave Anche unicavalli Anche unicavalli Bene bene Maialini Lunedì però andiamo in clinica Che è urgente Sì con i cagnolini Uh uh Ciao 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 Ciao